Al centro del Vangelo secondo Marco troviamo la professione di fede dell'Apostolo Pietro, che costituisce il vertice della prima parte, dove l'Evangelista ha voluto presentare la progressiva rivelazione messianica di Gesù. Infatti il discepolo, a nome degli altri, fa la sua professione di fede riconoscendo che Gesù è il Cristo. Tuttavia in quella terza sezione che prepara la confessione di Pietro si nota una insistenza sulla incapacità dei discepoli a capire Gesù, a capire il senso di quello che sta facendo Gesù. Gesù stesso si lamenta con loro dicendo ma come non capite, non capite ancora, ma avete il cuore indurito? Ecco il problema, il cuore indurito, cioè la testa dura, è l'ostacolo alla fede, è l'ostinazione nelle proprie idee, sono le fissazioni, le testardaggini con cui ognuno di noi, seguendo il proprio carattere, si oppone a Gesù e non accetta la sua rivelazione. Marco inserisce, prima della professione di fede di Pietro, due racconti di miracolo particolarmente simbolici. Il primo è quello del sordomuto che Gesù guarisce con quell'imperativo aramaico che è rimasto conservato, è fatà, ed è rimasto nella nostra liturgia battesimale. Il secondo miracolo, ancora più significativo, narra di un uomo cieco che viene guarito in due momenti successivi. Conducono a Gesù un cieco pregandolo di toccarlo. Gesù prende per mano il cieco, lo conduce fuori dal villaggio, gli mette della saliva sugli occhi, gli impone le mani e gli chiede, vedi qualcosa? Quell'uomo risponde? Intravedo gli uomini perché mi sembra di vedere degli alberi che camminano. Non è ancora una visione nitida, è confusa, intravede qualcosa, già meglio di prima, ma non ha ancora una visione limpida. Allora Gesù gli impose di nuovo le mani ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. Perché l'Evangelista Marco e solo lui racconta in questo modo il miracolo del cieco perché vuole comunicare un significato importante. Due fasi di intervento di Gesù. La prima arriva ad una visione torbida e confusa, la seconda invece ottiene una visione limpida e chiara. Marco fa riferimento alla struttura stessa del suo racconto o meglio alle due fasi della rivelazione di Gesù. Questo episodio del cieco guarito in due fasi è proprio raccontato prima della scena di Cesarea di Filippo in cui Pietro dice a Gesù tu sei il Cristo e qui avviene la svolta, finisce la prima parte e inizia la seconda. Siamo al centro delle due fasi. La prima è la rivelazione di Gesù come il Cristo. La seconda ha come obiettivo la rivelazione di Gesù come figlio di Dio. Quando Pietro arriva a credere che Gesù è il Cristo è come un cieco che comincia a intravedere alberi che camminano, non vede nitidamente, comincia a intravedere qualcosa. Non è il vertice della fede riconoscere che Gesù è il Cristo. È un punto di svolta importante, necessario, ma non sufficiente. C'è bisogno di un secondo intervento di Gesù. È la seconda fase della sua opera di formazione degli Apostoli e corrisponde alla seconda parte del racconto dell'Evangelista Marco, dove viene presentato il mistero del figlio dell'uomo identificato con il servo sofferente. Dopo che Pietro ha detto a Gesù tu sei il Cristo, Gesù non gli fa i complimenti, non lo elogia in modo particolare, non lo invita a dire a tutti la propria fede, anzi impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. È il contrario di quello che abitualmente ci immaginiamo. Gesù ha invitato gli Apostoli a predicare il Vangelo una volta che hanno capito bene, una volta che sono maturati nella fede, ma adesso sono ancora ciechi che cominciano a vedere senza avere una visione nitida, quindi devono stare zitti. Non possono permettersi di dire ad altri quello che loro non hanno ancora capito. Al capitolo 8 il versetto 31 segna l'inizio della seconda parte del Vangelo di Marco e cominciò a insegnare loro. È un indizio importante, il narratore adopera il verbo cominciare per dire che è l'inizio di una nuova fase. Dopo aver raccontato l'archè, l'origine della buona notizia che Gesù è il Cristo, adesso Marco intende raccontare l'archè della buona notizia della buona notizia che afferma Gesù è il figlio di Dio. Avere capito che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, non è un granché perché gli Apostoli hanno una idea sbagliata di Messia, hanno la loro fissazione religiosa che li porta a pensare al Messia come un re potente militare che organizza uno stato, che combatte contro i nemici, che dà un prestigio nuovo alla nazione ebraica. Non è questo il senso del messianismo di Gesù. E i discepoli fanno fatica a capire quale sia il senso corretto. La seconda parte del racconto evangelico di Marco mostra l'itinerario formativo dei discepoli in questa direzione. Anche questa seconda parte del Vangelo è organizzata in tre sezioni. La prima, che potremmo identificare con il viaggio verso Gerusalemme, è segnata dai tre annunci della passione. Per tre volte Gesù annuncia profeticamente il proprio destino di morte e risurrezione. Sono il Cristo, avete ragione, ma non avete ancora capito che essere il Cristo significa morire, dare la vita. È quello proprio che non riescono a capire e ad accettare. Tre volte al capitolo 8, versetto 31, al capitolo 9, versetto 31, al capitolo 10, versetto 32, Gesù ripete questo annuncio. Schematicamente Marco ha insistito su questo annuncio. Fra un annuncio e l'altro ci sono degli episodi e soprattutto dei momenti catechistici. Gesù fa catechismo ai suoi discepoli. È un cammino formativo, esattamente come quello che sono chiamati a vivere i catecumeni che si preparano al battesimo. È la esperienza della formazione dei discepoli che devono assimilare la mentalità di Gesù. Arrivati a Gerusalemme, siamo al capitolo 11, Marco racconta una serie di episodi ambientati ambientati nella città santa. Sono soprattutto discussioni con le autorità. Dopodiché Gesù lascia Gerusalemme e il Tempio e presenta un discorso sintetico sulla fine. Così abbiamo i capitoli 11-13 che raccontano il ministero di Gesù in Gerusalemme. Seconda sezione. Infine, nei capitoli 14 e 15 viene raccontata la passione di Gesù e al capitolo 16 la visita al sepolcro vuoto, l'annuncio della risurrezione come inizio dell'autentica missione della Chiesa. Dopo che si è compreso che il Cristo morto e risorto è il Figlio di Dio, si può annunciare a tutti gli altri questa grande rivelazione di Dio. Ripercorriamo allora questa seconda parte del Vangelo secondo Marco sottolineando gli aspetti più importanti che il narratore teologo fa emergere dalla sua narrazione. Subito dopo la professione di fede di Pietro troviamo la prima profezia della passione e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. È in sintesi l'annuncio pasquale. Il figlio dell'uomo è un termine tecnico della teologia giudaica, non significa semplicemente uomo, deriva dal linguaggio apocalittico di Daniele e indica un personaggio trascendente, uno che viene sulle nubi del cielo, a cui Dio, l'antico di giorni, ha affidato tutto il potere terrestre. Dunque il figlio dell'uomo era visto nella tradizione giudaica, soprattutto di tipo apocalittico, come un personaggio dell'altro mondo che entra in questo mondo con tutto il potere di Dio. Era pensato cioè come un essere glorioso, potente, vittorioso, capace di dominare le bestie, di sconfiggere tutti gli imperi di questo mondo. Gesù effettivamente si presenta come il figlio dell'uomo, è uno dei termini che adopera più frequentemente, presenta se stesso con questo titolo, mai si presenta come il Cristo. Lascia intendere che ha il potere di Dio, proprio come personaggio trascendente, glorioso, che può perdonare i peccati, è lo sposo, è colui che cura l'umanità. Ma il potere di Gesù, la sua exusia, non consiste nel combattere i nemici, concretamente in quel periodo voleva dire gli invasori romani, ma consiste nel curare l'uomo, nel guarire l'incredulità umana, nel creare la buona relazione con Dio e la cura porta alla fede, all'atteggiamento dell'uomo che si apre alla rivelazione di Dio. Il figlio dell'uomo, potente, delegato, divino, concretamente si identifica con l'altra figura presentata nell'Antico Testamento, del servo sofferente, umiliato e offeso, disprezzato e ucciso. Eppure, come ha detto il Cantico di Isaia 53, lui ha tolto i peccati, ha preso su di sé le colpe del popolo e ha guarito. La sua ferita ha fatto sì che l'umanità guarisse. Questo è il centro della predicazione di Gesù, questo è il nucleo che interessa particolarmente a Marco. L'opera straordinaria compiuta dal Cristo, crocifisso, cioè è la morte del Messia il punto determinante, è la ferita che fa guarire gli altri. È necessario che avvenga questo. I discepoli devono capire, accogliere nella fede questo evento straordinario, che non è un fallimento, anche se agli occhi degli uomini sembra veramente un fallimento. È in realtà la piena realizzazione del progetto divino. Il Messia, che viene disprezzato e ucciso, dopo tre giorni risusciterà. L'annuncio completo è quello della morte e risurrezione, non solo della vita senza passare attraverso la morte, ma una esperienza che passa attraverso la morte e la supera, la vince, rende possibile una nuova relazione guarita dell'uomo con Dio. Gesù faceva questo discorso apertamente, ma Pietro non lo accetta. È un cieco che comincia a vedere, ma non ci vede ancora bene. E rimprovera Gesù perché la prospettiva di morte del Messia non lo convince affatto, non gli piace, la rifiuta. Gesù chiama Pietro Satan, mettiti dietro di me Satana. Satana è un termine ebraico che indica l'avvocato accusatore, è il pubblico ministero, è colui che trova ostacoli. È una tentazione che il discepolo gli pone, è un ostacolo che mette davanti al suo cammino. Gesù dice al discepolo non puoi pretendere di andare avanti tu, mettiti dietro di me. Va de retro non vuol dire vai indietro, allontanati, ma mettiti dietro. La strada la faccio io, gli dice Gesù. Sono io che guido verso la meta. Tu, uomo di fede, vienimi dietro, seguimi, impara da me e accetta quello che io ho da dire. dopo la prima profezia della passione, ecco la catechesi. Gesù convoca la folla e dice apertamente se qualcuno vuole venire dietro di me deve dire di no a se stesso, deve correre il rischio di finire anche lui sulla croce, di subire una condanna a morte e seguire la strada di Gesù. In questa prima sezione della seconda parte, che occupa la fine del capitolo 8, tutto il 9 e tutto il 10, noi troviamo una serie di catechesi di Gesù, incentrate soprattutto sulla croce, cioè sulla dinamica di morte e risurrezione. L'annuncio di Gesù trova un rifiuto da parte dei discepoli. Ogni volta che Gesù annuncia il suo mistero di morte e risurrezione, i discepoli reagiscono da ciechi, da sordi che non ascoltano, non capiscono e obiettano a Gesù o perlomeno continuano a fare quello che avrebbero fatto anche senza di lui. Nel primo caso è Pietro che si oppone a Gesù e lo ostacola, lo contesta, non è un uomo di fede, anche se ha creduto nella messianicità di Gesù, è un contestatore di Gesù che ha bisogno di un secondo intervento, ha bisogno di un'opera terapeutica su di lui perché possa aderire veramente al Signore con tutta la sua fede. A questo punto si colloca l'episodio della trasfigurazione. Gesù sale sul monte e mostra il proprio volto divino e tre discepoli che lo hanno accompagnato, hanno questa esperienza che anticipa la risurrezione. Angosciati per l'annuncio della croce, sono consolati con la visione della risurrezione. Ma quella luce dura un attimo, poi si torna alla realtà. Mostrata la meta finale, non si salta il problema, lo si affronta, lo si attraversa. Appena sceso dal monte Gesù trova gli altri nove discepoli che erano rimasti alla base della montagna, le prese con un bambino malato, un altro caso di indemoniato e loro non sono riusciti a fare niente. Gesù nel racconto di Marco ha una reazione molto umana di chi perde la pazienza ed esclama, o generazione incredula, fino a quando starò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi. È la pazienza di Gesù come formatore che è messa alla prova. Di fronte al bambino indemoniato Gesù interviene e la sua parola è efficace, mentre i discepoli non erano riusciti a fare niente. Glielo dice il padre, se tu puoi fare qualcosa aiutami. Anche in questo caso Gesù ha uno scatto ed è Marco che tipicamente mostra questo carattere brillante di Gesù, anche il ruente, reagisce dicendo come sarebbe a dire se puoi fare qualcosa. Certo che posso, tutto è possibile se tu credi. Io posso fare tutto, ma dipende dalla tua fede se si riesce a ottenere un risultato. E il padre esclama con una formula splendida. Io credo, ma aiutami nella mia incredulità. Ecco, c'è un po' tutto il tema teologico di Marco. I discepoli credono, ma sono ancora increduli, hanno bisogno di essere aiutati. È la nostra situazione che si ripete abitualmente, anche noi crediamo, eppure siamo ancora in cammino. Abbiamo bisogno di essere aiutati dalla grazia di Cristo per vincere quella incredulità residua che ancora domina il nostro cuore. Il secondo annuncio della passione è seguito da un'altra scena di incomprensione. I discepoli non capiscono quello che Gesù dice e discutono tra di loro. Marco con abilità letteraria mostra Gesù che da solo cammino verso Gerusalemme, seguito dai discepoli che parlottano fra di loro. Quando arrivano in casa chiede di cosa parlavate? E quelli si vergognano a dirglielo, perché parlavano di gerarchie, discutevano chi fosse il più importante di loro. Ed ecco di nuovo un segno di incomprensione. I discepoli non hanno capito il discorso della croce, non hanno capito quello che Gesù sta annunciando sul suo modo di guarire l'umanità. E allora con grande pazienza deve sedersi, raccogliere i discepoli e presentare un'altra catechesi. È l'istruzione sul servizio. Il primo è colui che serve, è colui che è disposto a mettersi all'ultimo posto e offre un importante insegnamento contro lo scandalo, cioè l'ostacolo da porre ai discepoli, ai piccoli. Bisogna stare ben attenti di non essere degli ostacolatori nell'annuncio del regno. Nel capitolo 10 Marco ha raccolto una serie di episodi che hanno una funzione catechistica. Ci sono tre questioni importanti che devono essere affrontate, in cui Gesù evidenzia come lo stile della croce, cioè la sua proposta messianica di morte e risurrezione, interpreta la realtà concreta. Si tratta della situazione della famiglia, del rapporto con la donna da non ripudiare, la situazione dei bambini che contano poco e sono da accettare e accogliere, e la realtà delle ricchezze che abitualmente viene molto amata ma deve essere ridimensionata. La questione che pongono relativamente al divorzio presenta Gesù come uno che la pensa diversamente dagli altri. Gesù pensa diversamente anche nei confronti dei bambini che vengono allontanati. Gesù la pensa diversamente anche nei confronti di quel giovane ricco che se ne va triste perché non vuole lasciar perdere i propri beni. È una occasione importante con cui Gesù offre una istruzione ai discepoli su come rapportarsi di fronte a queste realtà. E arriviamo al versetto 32 del capitolo 10 dove è proposta per la terza volta la drammatica profezia della morte in croce, è una descrizione quasi realistica di quello che capiterà effettivamente a Gesù. Anche in questo caso la reazione dei discepoli è quella della incomprensione. Dopo aver detto a chiare lettere che sarà ucciso a Gerusalemme due discepoli si presentano e gli chiedono che faccia quello che vogliono. Cosa volete? Chiede Gesù. Vogliamo sedere uno alla destra e uno alla sinistra. Vogliono diventare ministri, i primi posti vogliono, ministero degli interni e ministero degli esteri. Vogliono condividere il potere con Gesù. Gesù ha detto chiaramente che non va a Gerusalemme per prendere il potere ma per dare la vita. Non capite quello che chiedete. Alla destra e alla sinistra di Gesù saranno due uomini crocifissi con lui. Se sapessero quello che chiedono non lo chiederebbero. Credono invece di capire. Seguono Gesù e gli vogliono bene ma non lo capiscono. Lo ascoltano ma non accolgono la sua parola. Continuano a rimanere fermi nella loro idea. Ecco la durezza del cuore, la ostinazione che ha bisogno di cura. Anche i discepoli, anche quelli che seguono Gesù e gli vogliono bene hanno bisogno di essere curati, di essere trasformati nel profondo, di essere liberati dalla loro mentalità umana, troppo umana. E arriva dunque la terza istruzione di Gesù in cui il Maestro presenta i capi della nuova comunità come coloro che servono. I capi delle nazioni li dominano. Fra voi invece non deve essere così, ma chi di voi vuole essere il comandante deve diventare il servitore. Siamo alla fine di questa sezione. Arrivati a Gerico, ultima tappa del viaggio verso Gerusalemme, Gesù incontra un cieco, Bartimeo, un mendicante che chiede di essere guarito. Urla dietro a Gesù, figlio di Davide, titolo messianico, abbi pietà di me. Gesù lo manda a chiamare. Quello getta il mantello e a tentoni, lasciandosi guidare, arriva Gesù, il quale gli chiede che cosa vuoi che io faccia per te. Notiamo che è la stessa domanda che ha posto a Giacomo e Giovanni, i due discepoli che poco prima gli hanno chiesto i primi due posti. A loro Gesù ha detto no. Adesso chiede a Bartimeo che cosa vuoi che io faccia per te? Quello chiede maestro che io abbia la vista. Anche in questo caso Marco conserva l'aramaico rabbuni, una espressione tipica, chiede di poter vedere e a lui Gesù dice di sì, la sua fede lo ha salvato. La fede è il desiderio di vedere, di vedere con gli occhi di Gesù, di vedere il mondo come lo vede Gesù. La fede non è una ostinazione con cui pretendiamo che Gesù faccia quello che vogliamo noi, ma è l'atteggiamento di chi impara a guardare la vita come la vede Gesù e la valorizza con lo stile proprio di Gesù. Il cieco guarito segue Gesù lungo la via. Anche la prima parte terminava con la guarigione di un cieco. Questi episodi sono utilizzati da Marco in modo simbolico e significativo. I discepoli sono ciechi e hanno bisogno di guarigione. I catecumeni di Roma, ovvero noi lettori moderni del Vangelo, siamo ancora in quella situazione. Anche noi siamo ciechi e chiediamo che Gesù ci apra gli occhi per poter vedere la sua strada. Attraverso i sacramenti Gesù opera, la potenza di Dio realizza questa guarigione e noi guariti, cioè creati nella fede nuova, lo seguiamo sulla sua strada. È una strada in salita. Da Gerico si sale a Gerusalemme per circa 30 chilometri attraverso una zona arida e desertica con un dislivello di circa 1200 metri. È l'ultima tappa. In una giornata di faticosa salita Gesù e i suoi discepoli raggiungono Gerusalemme. Con il capitolo 11 entriamo nella seconda sezione, quella centrale di questa seconda parte del Vangelo. È l'attività a Gerusalemme. Gesù entra nella città santa, entra nel Tempio e guarda tutto intorno ogni cosa. È un tipico verbo di Marco, periblepo, guardare con sguardo circolare tutta la realtà, fissare bene le cose. Gesù quella sera rientra a Betania e il secondo giorno, entrato nel Tempio, ne caccia i mercanti. Prima di arrivare a Gerusalemme passa davanti a un fico carico di foglie. Gesù ha fame, vorrebbe mangiare, ma non è stagione dei fichi. Siamo in primavera, poco prima di Pasqua. E quell'albero non ha frutti. Gesù pronuncia una parola dura di condanna. È un gesto simbolico, una tipica azione profetica. I discepoli restano meravigliati e non dicono nulla. Vanno nel Tempio e vedono l'azione dura di Gesù, altro gesto profetico. Caccia i mercanti. Vuole dire che la religione non è una questione di commercio, non si dà a Dio qualche cosa per avere in cambio qualcos'altro, ma è una relazione gratuita di affetto. La fede non è una compravendita per avere da Dio dei benefici, ma è una disponibilità a seguirlo sulla via della croce. Il giorno successivo, è il terzo giorno in questo racconto della presenza di Gesù a Gerusalemme, passando presso quell'albero di fichi, i discepoli restano meravigliati perché vedono che è seccato completamente da un giorno all'altro e dicono a Gesù hai visto? Ieri tu hai maledetto questo albero ed è seccato. È un segno simbolico importante. Ci ricorda che la parola di Dio è efficace, che la parola di Gesù realizza quello che dice. Se dice bene crea il bene, ma se dice male realizza ugualmente e secca tutto. Quell'albero di fichi rappresenta il Tempio di Gerusalemme, è un Tempio sterile, pieno di foglie, tante apparenze ma senza la fecondità sostanziosa, senza i frutti. E quella parola dura di Gesù contro il Tempio si realizzerà come si è realizzata quella contro il fico sterile. In questo giorno Gesù, entrato nel Tempio, incontra diverse autorità di Israele e Marco presenta una serie di dispute. Ritroviamo quello schema che aveva già introdotto all'inizio del suo racconto. La prima disputa riguarda l'autorità di Gesù. Gesù non risponde perché i suoi interrogatori non vogliono prendere una posizione chiara e racconta loro la parabola dei vignaioli omicidi. È uno splendido esempio di parabola provocatoria. Gesù mette di fronte alla loro responsabilità quegli uomini che erano effettivamente dei proprietari terrieri, avevano tante vigne in Galilea e spesso dei contadini si ribellavano e loro volevano punirli. Pensano che Gesù, raccontando quella parabola, voglia far dire loro che bisogna essere buoni, condiscendenti e perdonare i contadini che non vogliono pagare l'affitto. Invece rispondono bisogna distruggere, punire severamente quegli uomini. E Gesù da loro ragione, da buon parabolista, li ha presi all'amo. Non hanno capito dove voleva arrivare. Loro pensavano di essere i padroni della vigna. In realtà Gesù intendeva dire che loro sono i contadini. La parabola è rivolta alle autorità religiose, ai capi dei sacerdoti. Loro sono i contadini, il padrone della vigna è Dio e loro non vogliono dare i frutti, non vogliono riconoscere il figlio. Ecco un altro elemento importantissimo di cristologia implicita. Gesù raccontando questa parabola si presenta come il figlio di Dio, l'erede e annuncia drammaticamente che i capi invece sono contadini violenti e assassini. Segue una serie di dispute in cui chiedono a Gesù qualcosa per comprometterlo, per prenderlo in fallo. Gli chiedono se è lecito pagare il tributo a Cesare, gli chiedono cosa ne pensa della risurrezione dei morti, gli chiedono qual è il primo dei comandamenti e Gesù in ogni caso dà delle risposte sintetiche molto sapienti che formano la nostra mentalità cristiana. A questo punto è Gesù stesso che prende l'iniziativa e fa lui una domanda agli avversari, è una domanda esegetica che riguarda il Salmo 109 dove Davide dice che il Signore si è rivolto al suo Signore invitandolo a sedere alla sua destra. È il Messia che Dio invita a sedere alla destra e Gesù domanda come mai dite che il Messia è figlio di Davide quando invece Davide lo chiama Signore? Se lo chiama Signore significa che è più importante di lui, che è superiore e che viene prima. Il Messia non è un erede di Davide, non è un re politico ma precede Davide, esiste da prima e Davide lo ha riconosciuto come suo Signore. È una questione teologica importantissima e nessuno è in grado di rispondere alla domanda di Gesù. Non sono in grado di rispondere perché dovrebbero darsi la zappa sui piedi e non hanno più il coraggio di interrogarlo. Gesù si ferma davanti al tesoro del Tempio e mette in guardia i suoi discepoli dalla ipocrisia dei farisei che divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Poi vede una povera donna che getta tutto quello che aveva nel tesoro del Tempio e chiama i discepoli dicendo vedete sta povera donna, l'hanno sfruttata fino in fondo, le hanno preso tutto, adesso con le loro manie religiose le portano via ancora quei pochi soldi e questa donna generosa è stata divorata da quella struttura religiosa disumana che non l'ha aiutata ma l'ha distrutta. Gesù non elogia la generosità di quella donna, rimprovera l'avidità di quella struttura religiosa e mentre escono dal Tempio un discepolo gli fa notare che belle pietre che ci sono in questa costruzione, non l'avesse mai fatto. È la volta che Gesù perde davvero la pazienza e dice non resterà pietra su pietra che non venga distrutta, altro che dare le offerte per mantenere il Tempio è destinato a essere raso al suolo, tutto verrà distrutto. E segue il discorso escatologico, l'intero capitolo 13 contiene un lungo discorso, l'unico lungo discorso presente nel Vangelo secondo Marco, è il discorso della fine, annuncia la fine di Gesù, cioè il suo mistero pasquale di morte e risurrezione, annuncia la fine di Gerusalemme, la distruzione della città che avverrà nell'anno 70 e annuncia anche la fine del mondo, il compimento della storia. È l'introduzione al racconto della passione che inizia subito dopo e occupa i capitoli 14 e 15. Nel racconto della passione Marco segue il canovaccio tradizionale molto simile a quello degli altri sinottici, racconta una vicenda scioccante, Gesù parla poco in questi eventi, sono i fatti drammatici e dolorosi che devono parlare, ormai Gesù ha detto quello che doveva dire e i discepoli che lo seguono comprendono che aveva ragione. Ma è uno straniero, un centurione romano che ai piedi della croce fa la professione di fede vertice del Vangelo secondo Marco. Il centurione, avendolo visto spirare in quel modo, disse veramente quest'uomo era figlio di Dio. Al capitolo 15, versetto 39, abbiamo la professione di fede più matura. È il riconoscimento della divinità di Gesù. E come ci è arrivato il centurione? Avendolo visto morire in quel modo. È la morte di Gesù in croce, in quel modo che fa nascere la fede, il modo con cui Gesù ha affrontato una tragedia simile. È il suo modo di affrontare le difficoltà che rivela un atteggiamento divino. Gesù è morto da Dio, ha manifestato la sua divinità proprio accettando di perdere tutto. È la rivelazione paradossale di un Dio che si svuota per guarire l'umanità, per far nascere quella relazione buona di fede. E all'inizio del capitolo 16 Marco racconta la visita al sepolcro vuoto. Il primo giorno della settimana le donne vanno alla tomba e la trovano vuota e sentono un angelo che dice loro la bella notizia, non è qui, è risorto, ve l'aveva detto, andate a dirlo agli altri e quelle scappano via, non dicono niente perché hanno paura. Il Vangelo di Marco finiva con il versetto 8 del capitolo 16. Finiva in questo modo, donne impaurite che scappano e non dicono niente. è un finale strano, provocatorio, perché da quella dolorosa esperienza è risorta veramente la fede dei cristiani. E i discepoli hanno accolto poi il Cristo e grazie alla sua morte sono maturati nella fede e aderiscono a lui e annunciano a tutto il mondo arrivando fino a Roma. E in quella notte di Pasqua in cui i catecumeni ascoltavano la lettura per intero del Vangelo secondo Marco, potevano aderire pienamente alla fede, potevano accettare la bella notizia di Gesù che è il Cristo e il Figlio di Dio. qualche antico amanuense aggiunse altri versetti alla fine del Vangelo di Marco per farlo coincidere con gli altri in cui in modo sommario si raccontano alcuni episodi di apparizioni pasquali, ma il vertice del racconto è l'esperienza del crocifisso incontrato personalmente da ciascuno e questo incontro avviene proprio nei sacramenti. Avviene qui adesso ancora nella nostra vita.